Musica Ben ritrovati amici telespettatori di Rete8 per questo nuovo spazio di approfondimento dedicato alle prossime elezioni amministrative. Oggi ci troviamo ad Atri, comune dove i cittadini prossimi 14 e 15 maggio dovranno recarsi alle urne per eleggere il loro nuovo sindaco. Qui sono due candidati alla carica di primo cittadino, da una parte noi con voi per Atri, espressione dell'amministrazione uscente con la candidatura bis del sindaco Pier Giorgio Ferretti di area vicina al centrodestra. Dall'altra alleanza civica di Atri guidata da Alfonso Prosperi, medico, chirurgo e consigliere PD uscente. Va sottolineato che per la prima volta nella storia delle elezioni amministrative della città si confronteranno solo due liste. Atri quindi si appresta a vivere un confronto elettorale sulla carta, ma è così equilibrato. Ma entriamo all'interno di Palazzo Ducale e andiamo subito ad ascoltare i due candidati alla carica di sindaco. Il nostro primo ospite di oggi è il sindaco uscente Pier Giorgio Ferretti, appoggiato dalla lista noi con voi per Atri. Come mai la scelta di ricandidarsi per un secondo mandato? La scelta di ricandidarsi naturalmente perché non è stato completato il programma del primo mandato. Questo naturalmente è l'effetto dovuto da un lato alla pandemia che ha bloccato ovviamente le amministrazioni e soprattutto poi la guerra e la crisi energetica che ha bloccato i prezzi e quindi inevitabilmente allungato tante opere. Dall'altro la possibilità che comunque ci è venuta da questa crisi e da queste problematiche, cioè quella legata a sfruttare il PNRR e quindi a tutta una serie di finanziamenti che l'amministrazione ha ottenuto. Parliamo di 30 milioni di euro già ottenuti e di altri 8 milioni che possono cambiare completamente la città e quindi i disegni che l'amministrazione comunale, la nostra lista, ha pensato come idea che abbiamo di città, della nostra città per rilanciare da un lato il lavoro e lo sviluppo dell'ampio patrimonio storico, architettonico e culturale e dall'altro per dare delle opportunità che possono avvedere da tutta questa serie di investimenti sul territorio. Parliamo un po' di programma, quindi i punti cruciali del suo programma sono proprio questi? Beh, abbiamo realizzato un programma sicuramente realizzabile dove dietro, dicevo, c'è un'idea chiaro di città. Chiaramente quelli che sono i punti salienti sono legati da un lato alla realizzazione del parcheggio. Per una prima parte abbiamo già appaltato, trovato i finanziamenti e dato il via alla progettazione per circa 70 posti che non sono pochi se pensiamo che tutto il centro storico sul corso diciamo dalla piazza del comune fino alla zona dell'apertura dei parchi ci sono solo 78 posti e dall'altro questo ridosso di Porta Macelli e dall'altro un parcheggio ancora più ampio sempre a ridosso del centro storico che possa aspitare fino a 200 auto. Questo è di sicuro il punto saliente perché questo vuol dire poi poter progettare tutta una serie di iniziative sul centro storico, poter pensare di avviare anche unitamente i commercianti una chiusura del centro storico e dare un'importante opportunità alla nostra città per un'idea che è quella sicuramente dello sviluppo, della crescita e di un primato che questa città sotto il profilo turistico e ambientalistico ha, dall'altro portare a termine e continuare ad ampliare tutta una serie di iniziative che nel corso di questi anni hanno favorito sotto il profilo turistico l'apertura di tante piccole strutture ricettive all'interno del centro storico e non solo e dall'altro proseguire perché ci sono importanti progetti da parte dei privati da un lato la struttura ricettiva nell'ex menozzi 7-8 mila metri che è stata riacquistata l'albergo, l'hotel du parque che è riaperto dopo diversi anni e altre strutture ricettive che apriranno nell'immediata periferia le cosiddette ville Iommarini e Mattucci che sono state riacquistate proprio per ampliare ulteriormente quel numero di posti e per trasformare quel turismo importante che c'è nella nostra città che è un turismo fino ad oggi mordi e fuggi in un turismo stabile che possa portare crescita e rappresentare un punto fondamentale di sviluppo e opportunità per i giovani e per i commercianti sotto il profilo turistico anche in questo senso l'amministrazione si è già impegnata e dobbiamo proseguire anche sotto il profilo del turismo enogastronomico, ambientalista abbiamo visto il grande sviluppo che c'è stato nell'ambito dell'Oasi dei Calanchi e anche quello religioso non ultimo le opere che stiamo realizzando a ridosso di Santa Rita su cui si dicono tante sciocchezze che è diventato santuario e che vediamo come nuova opportunità anche di rilancio del turismo religioso e poi tanto altro che purtroppo il tempo è nemico in questo però il confronto con i cittadini di questi giorni ci dà l'opportunità di spiegare quelle che sono le ragioni e anche le opere che abbiamo in mente per le numerose frazioni del Comune da Fontanelle a Casoli, da San Giacomo a Santa Margherita, a Lacone a Tre Ciminiere Uno dei problemi che stanno vivendo numerosi comuni è quello dello spopolamento che situazione c'è qui ad Atri? Come vi state muovendo per cercare di risolvere questa problematica se verrete riconfermato come sindaco? Mi fa piacere intanto che lei stessa l'abbia citato che stanno vivendo tantissimi comuni non solo dell'interno ma anche della costa dove sappiamo che sarebbe molto più semplice limitare questo fenomeno chiaramente si tratta di un problema nazionale sotto il profilo naturalmente della limitazione di questo fenomeno l'amministrazione si sta muovendo favorendo tutte quelle che sono le possibili opportunità di lavoro e qui devo dire che abbiamo molto da sperare perché la città è tornata ad essere accogliente sotto il profilo degli investimenti se si pensa che tanti opifici ho fatto riferimento all'ex Menozi ma anche quello di Ezi è stato riacquistato dove nascerà a breve un piccolo centro commerciale quello dell'ex Mobil Centro in prossimità della Rotonda è stato riacquistato quello di Ezzoni a San Martino è stato riacquistato quello di Di Marflor per la zona di Piane Sant'Andrea a quelle ville a cui facevo riferimento e qui nasceranno strutture ricettive o comunque realtà artigianali o industriali che daranno tante opportunità di lavoro e quindi ovviamente conseguentemente si vedrà anche un rilancio sotto il profilo non solo occupazionale ma anche per arginare quello che è il fenomeno dello spopolamento qui ci tengo anche a precisare che l'amministrazione ha il grosso merito che se è vero che c'è stato lo spopolamento quantomeno abbiamo ripopolato sotto il profilo anche delle presenze perché noi abbiamo 2.000 giovani che vengono circa 1.500 pendolari dei 1.800 studenti delle scuole superiori che va continuato a sostenere e poi ecco invece dall'altra parte qui vediamo solamente polemiche anche su questo ma questo diventa un problema politico nel momento in cui l'altra lista ritiene di polemizzare su questo fatto quando diversi candidati di quella stessa lista non risiedono ad Atri Ovviamente si parla anche della tutela del polo scolastico e soprattutto anche dell'ospedale perché sono queste due tematiche che hanno acceso il dibattito politico Sì, la tutela del polo scolastico che è un polo scolastico oggi in ottima salute a differenza di diversi anni fa quando contava e non c'era lo spopolamento solamente 400 alunni e si rischiava che fosse perso e oggi sarebbe stato sicuramente perso se non fossero state fatte tante iniziative per la sua crescita questo va continuato a difendere lo dobbiamo continuare a tutelare perché Atri pur essendo vicino alla costa non è sulla costa si trova nelle aree interne e quindi è difficile far venire gli studenti da fuori e quindi dobbiamo proseguire in quell'azione importante di sviluppo e di sostegno al polo scolastico non solo dell'obbligo ma anche qui mi riferisco a quello superiore perché anche perché il liceo di Atri gli istituti tecnici e professionali di Atri non sono né quelli più vicini a nessun comune della costa dove ci sono i numeri dove ci sono i ragazzi che vanno attratti inevitabilmente soprattutto da quelle zone ma soprattutto proprio in termini di trasporti è anche quello più scomodo sotto il profilo ospedaliero anche qui dobbiamo tornare a riavere un privato è vero che ci sono delle criticità l'amministrazione però si è mossa tanto perché in questi anni è stato fatto sono stati nominati tra primari e responsabili primari e responsabili di cinque reparti mi riferisco alla chirurgia, all'ortopedia alla radiologia, al pronto soccorso e in itinere il concorso per la sostituzione del primario di endocrinologia abbiamo degli ottimi reparti l'ospedale continua a funzionare e funziona bene ogni mattina è un esempio che non si riesce a trovare parcheggio per dire che i servizi sono erogati e sono erogati bene chiaramente ci sono delle criticità in questo l'amministrazione il nuovo sindaco si deve continuare a muovere dobbiamo continuarci ad impegnare affinché queste criticità siano eliminate nei limiti del possibile facendo comunque i conti con quelli che sono le problematiche nazionali di mancanza di medici di mancanza di pediatri di mancanza di cardiologi e hanno visto non la chiusura di questi reparti ma la limitazione di alcuni servizi e mi riferisco alla pediatria e alla cardiologia che tanto costano alla nostra collettività però dall'altro dobbiamo anche vedere quelli che sono stati i potenziamenti dall'attacca a 128 strati al nuovo reparto di riabilitazione è sempre poco perché quando parliamo di salute non è mai troppo e in questo senso ovviamente continua ad esserci come c'è stata e come differentemente l'altra lista vuol far credere l'impegno del sindaco e dell'amministrazione per proseguire anche in questo senso nella crescita e nello sviluppo anche del nostro presidio ospedaliero Manca pochissimo tempo la questione sicurezza è un argomento purtroppo sentito in tutti i comuni come state cercando di contrastare un fenomeno anche della criminalità Beh, in questo senso devo dire che l'impegno dell'amministrazione c'è stato e Atri resta ancora un oasi felice per la presenza del commissariato qui è noto che c'era una forte presa di posizione da parte dei comuni della costa di un comune costiero di Roseto degli Abruzzi c'è stata una vittoria politica ma soprattutto amministrative e istituzionali il commissariato è restato ad Atri e questo è stato, come l'ho detto una vittoria della città che sento di ricriminare io in qualità di sindaco e che va attribuita a tutti in questo senso anche all'impegno dei partiti del centro-sinistra dello stesso Dottor Prosperi perché in quell'occasione tutti ci siamo mossi lungo un'unica direzione dall'altra parte l'amministrazione ha dato un forte impegno da un lato con un importante finanziamento regionale di circa 2 milioni e 800 mila euro ma con un impegno di fondi comunali per la realizzazione del commissariato di 1 milione e 200 mila euro quella vittoria non è venuta a caso sappiamo tutti che alla fine nonostante l'impegno politico sia del centro-destra ripeto che del centro-sinistra perché io non mi devo vergognare perché in qualità di sindaco sono il sindaco di tutti non mi vergogno di dire se ho chiesto aiuto anche agli altri partiti che in quel senso forse in quell'unica occasione perché altrimenti di opposizione ne abbiamo veramente vista poca si sono impegnati anche loro però chi ha sciolto poi la vera problematica è stato un generale di corpo di armate il generale Robusto a quale la città poi ha tributato proprio la cittadinanza onoraria che fu il vero senso della cittadinanza onoraria cioè del cittadino che se n'era andato ma che è rimasto legato con il cuore e con la mente alla sua città e alle sue radici Il tempo a disposizione è finito però dobbiamo chiedere il perché i cittadini atriani devono riscegliere lei come sindaco Beh perché da questa parte come ho detto c'è un'idea di città abbiamo con le nostre idee la nostra idea di città chiesto e ottenuto questi importanti finanziamenti e quindi li vogliamo realizzare e quindi io chiedo il voto proprio per questa classe dirigente che da un lato ha la parte forte delle esperienze e dall'altro vuole realizzare quei progetti che con tanto impegno abbiamo ottenuto e per appunto poter realizzare queste opere che torneranno a far tornare la nostra città ad un primato importante e con quello sviluppo e quella crescita che abbiamo in mente e che realizzeremo sicuramente grazie mille a Pier Giorgio Ferretti della lista Noi con voi per Atri e adesso è arrivato il momento di Alfonso Prosperi il candidato sindaco con la lista Alleanza Civica ovviamente la prima domanda è perché ha deciso di scendere in campo sono sceso in campo perché mi si è data l'occasione di servire la mia città io vengo da un'esperienza politica di dieci anni di opposizione sono stato segretario del Partito Democratico per cinque anni e in questo periodo l'ultimo periodo abbiamo lavorato perché si formasse questa Alleanza Civica che è veramente l'unica novità di questa tornata elettorale tenga presente che non so da quanto tempo non c'è una contrapposizione fra due liste in questa città quindi l'occasione di servire la mia città e la formazione di questa Alleanza Civica ha fatto sì che io accettassi questo incarico di candidarmi a sindaco l'impegno di tutti c'è stato l'impegno di tutti partiti politici associazioni movimenti civici che hanno fatto tutti un passo indietro per poter dar vita a questo progetto politico molto importante per la nostra città adesso iniziamo a parlare un po' del programma quali sono le sue idee per la città di Atri? Guardi Atri purtroppo vive una situazione molto molto grave che è quella dello spopolamento lo spopolamento che ci interessa dal 2009 praticamente fino adesso ci ha portato a 9.000 da 11.300 abitanti ci ha portato a 9.978 abitanti situazione molto grave è una situazione che interessa particolarmente il nostro comune e diciamo su 16 comuni che sono stati studiati che hanno le nostre stesse caratteristiche soltanto penne Atri sono quelli che perdono tantissimi abitanti quindi bisogna assolutamente invertire questa tendenza le politiche sono rivolte quindi a bloccare questo processo questa emorragia che praticamente sta facendo morire questo paese ovviamente bisogna lavorare con i giovani per cercare di farli tornare a vivere Atri noi vogliamo non far andare più via i giovani vogliamo far tornare quelli che sono andati via le politiche più importanti sono quelle che riguardano soprattutto lo sviluppo delle attività industriali commerciali ma soprattutto la revitalizzazione del centro storico che secondo noi rappresenta un volano importante per lo sviluppo economico la revitalizzazione del centro storico si fa con politiche dell'abitazione con politiche del commercio dell'attività turistica con la valorizzazione dell'immenso patrimonio immobiliare che è la nostra città e soprattutto sfruttando la progettualità quindi progetti importanti che possono dotare questa città di infrastrutture che potrebbero implementare le attività economiche del centro storico e anche quello l'obiettivo può essere quello di riportare ad Atri delle aziende delle medie aziende che purtroppo non ci sono più se non sbaglio abbiamo perso negli ultimi 15 anni le aziende più importanti le aziende storiche del nostro territorio e abbiamo perso anche aziende più grandi che sono state delocalizzate purtroppo non c'è stata una politica adeguata di ricollocazione di queste persone che hanno perso il lavoro il sindaco ha un ruolo importante in queste vicende deve assistere deve assistere chi l'imprenditore che sta in difficoltà economica ma deve assistere soprattutto l'operaio che sta perdendo il posto di lavoro ed è questo che noi ci proponiamo sicuramente l'implementazione della zona industriale che abbiamo va fatta rientrando in determinate situazioni come per esempio la carta regionale degli aiuti dove noi purtroppo non rientriamo e questo sarebbe una cosa importante perché permetterebbe alle aziende di entrare di poter usufruire di sgravi fiscali importanti che potrebbero portare lavoro in questa città un'altra tematica che ha acceso molto il dibattito è quello dell'ospedale in particolare quello della tutela del polo ospedaliero sì l'ospedale è una cosa importantissima è la prima azienda di questa città non soltanto quando si parla di ospedale si parla di politica sanitaria ma si parla di economia si parla di comunità e quindi bisogna assolutamente preservare questa questa azienda noi abbiamo durante il covid siamo stati convertiti completamente in ospedale covid siamo stati il primo ospedale ad assicurare un'assistenza importante dalla mattina alla sera avevano promesso il potenziamento il potenziamento non c'è stato c'è stato soltanto il depotenziamento abbiamo perso due reparti importanti come la pediatria e la cardiologia abbiamo una urologia a mezzo servizio abbiamo perso personale non riusciamo quindi con carenza di personale non si riesce più a far fronte alla lista d'attesa le liste d'attesa aumentano sempre di più cose assurde esami anche semplici si fanno con prenotazioni quasi di a un anno per cui questa cosa va assolutamente controllata anche qui il sindaco ha un ruolo importante perché questa è l'azienda più importante della sua città ha un ruolo importante nel comitato ristretto dei sindaci se non può deve mobilitare la popolazione i comuni vicini perché questo è un presidio di comunità non è soltanto il presidio di Atri ma è il presidio di un'intera area area vasta che comprende i comuni importanti che serve una popolazione di circa 80.000 abitanti tenga presente che nel periodo del covid questa popolazione è rimasta senza assistenza primaria per circa per più di un anno e ovviamente per far rimanere le persone a vivere ad Atri bisogna far sì che il polo anche scolastico funzioni al meglio il polo scolastico è anche questo un argomento molto importante sicuramente si dovrà assicurare sicuramente bisognerà fare un polo scolastico degno di questa di questa città noi riceviamo un numero grandissimo di studenti da tutti i comuni vicini che hanno però bisogno secondo me di un polo scolastico degno di questo nome che comunque tipo college per dirla brevemente che comunque richiami sempre di più studenti da questa parte ovviamente lì anche il trasporto è importantissimo perché altrimenti si rischia poi di lasciare a piedi come purtroppo è avvenuto in tanti comuni ragazzi sì il trasporto la regolamentazione del trasporto è molto importante noi sappiamo che ci sono delle criticità soprattutto per quanto riguarda il pomeriggio per cui zone dell'interno non vengono coperte dal servizio autobus per cui i studenti non possono rimanere hanno difficoltà a rientrare a casa dopo le attività scolastiche quindi questo è un problema che va attenzionato e quindi regolamentato ovviamente essendo Atri una città ad alta vocazione turistica qual è la sua idea per rilancio proprio di questo settore noi abbiamo un patrimonio artistico culturale di natura inestimabile che va assolutamente preservato e va implementato uno dei nostri punti più importanti del programma sicuramente è quello di candidare Atri a capitale della cultura capitale italiano della cultura ci stiamo lavorando oggi addirittura avremo un convegno con il sindaco di Pesaro che nel 2024 sarà capitale italiana della cultura non solo questo abbiamo intenzione di candidare Atri con i suoi vicoli con il suo centro storico con la sua cattedrale insieme all'area del Cerrano insieme all'Oasi dei Galanchi insieme al Belvedere di Silvi li vorremmo candidare come siti del patrimonio dell'UNESCO questo è un percorso lungo che comunque noi abbiamo già attenzionato ci stiamo lavorando e sicuramente riusciremo a portare a termine questo obiettivo Parliamo anche della questione sicurezza un argomento molto sentito c'era stato anche la questione del commissariato negli anni passati che rischiava di andare via e poi alla fine sembrerebbe una cosa risolta Sicuramente abbiamo avuto il problema del commissariato qualche anno fa c'è stato anche il pericolo abbiamo sventato il pericolo che questo presidio di sicurezza venisse spostato al Roseto diciamo che grazie al lavoro delle opposizioni grazie all'attività politica delle opposizioni siamo riusciti a salvare questo presidio di sicurezza che assicura che copre tutto il territorio e che è comunque un servizio imprescindibile non si può pensare a un territorio così vasto senza un presidio di sicurezza di questo tipo noi abbiamo lavorato insieme alla maggioranza abbiamo assicurato il nostro apporto perché quando ci sono temi di questo tipo non c'è contrapposizione fra maggioranza ed opposizione se lei dovesse essere il nuovo sindaco di Atri qual è la prima cosa che vorrebbe fare? Sicuramente nella mia prima uscita da candidato sindaco ho detto che nei primi cento giorni avrei fatto tre cose primo avrei avrei fatto un ufficio dedicato esclusivamente al PNRR perché come sapete bene il PNRR insieme ai fondi di sviluppo europei sono quelli che possono farti fare il salto di qualità e quindi anche da un punto di vista economico e lavorativo abbiamo intenzione di istituire un ufficio permanente che si occupi della questione ospedale non soltanto del comune di Atri ma insieme ai sindaci di Mitrofi con gli uffici ASL competenti di questa cosa altra cosa importante recuperare rilacciare ricominciare il rapporto con l'università l'università è una cosa alla quale non si può rinunciare avevamo l'università non ce l'abbiamo più abbiamo dei progetti importanti soprattutto con l'università di veterinaria perché avremmo intenzione di qualificare il nostro territorio che è un territorio vastissimo noi siamo uno dei comuni più grandi della provincia di Teramo per estensione dove c'è una grossa attività agricola un'importante attività agricola vorremmo qualificarla come dare un'impronta biologica sul biologico e questa cosa ci stiamo lavorando insieme ci lavoriamo insieme alle università di vetrinare che ha una vocazione una direzione agroalimentare siamo arrivati alla fine di questa lunga intervista perché i cittadini atriani devono scegliere lei come nuovo sindaco perché noi siamo il nuovo perché noi vediamo quotidianamente nelle riunioni che facciamo che la gente ci segue perché il nostro programma è un programma valido non è un libro dei sogni e sicuramente riusciremo ad attuarlo noi siamo il nuovo noi c'è bisogno di novità c'è bisogno di un percorso nuovo c'è bisogno di una svolta amministrativa e culturale e noi rappresentiamo questo grazie mille Alfonso Prosperi il candidato sindaco della lista alleanza civica bene amici telespettatori avete ascoltato le idee e i progetti dei due candidati per il futuro di questa città ora la parola passa ai cittadini atriani che i prossimi 14 e 15 maggio dovranno leggere il loro nuovo sindaco quindi non resta che ringraziarvi augurarvi un buon proseguimento sul rete 8 grazie a tutti